Se volete acquistare i crediti FIFA passate su thefoodshop.com, link e codice di sconto in descrizione. Non riusciamo ad impostare un'azione, sono 16 minuti già passati. Perera, però porco due, cioè, non so chi dà là, si gira, è grandissimo, hamsic, fa tutto lui, il tiro, non sapeva chi dà là, ho detto va bene, proviamo a fare tutto da soli, e l'abbiamo fatto, mare chiaro, oh mare chiaro sole mio, guarda che c'è Salah, guarda che c'è Salah, guarda che c'è Salah, che lo supera tutto velocità, Salah, et voilà, doppio passo e velocità. E' riuscito a passare sotto le gambe dei due giocatori, no, perché è giusto, hamsic da una parte, hamsic da una parte, dai, scopo le tagliate, si alleva tre piedi, invece di metterli, guarda dietro, hamsic, 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 bella, la piazza, è la redi, è sempre lui, mare chiaro, hamsic, è bello che ha, coordinati, vedi la precisione, è la prima volta che segna hamsic, sai, non ha segnato hamsic in questa partita, eh, No, no, hamsic, hamsic, perera, perera, no, non deve segnalarlo, hamsic, ah, è vero, se no, comunque non c'è, non stava a giocare a lui, dai, e metticelo subito il piede per farci ombrello del merda, se perera segnali, spinta la vida, hamsic, il tiro di hamsic, sostituzioni, Salah, già in panchina, teletrasporto, Salah, e i turbi, e i turbi è entrato, non è da Roma questo, oh, che cazzo? E i turbi è forte, oh, rigore, non ci posso credere, non so riuscire a fermarlo con tutta la fascia, a destra, dissi, fidate, e ascoltami, dissi, pare che sei maniato il gol, cioè, no, no, perché l'ho segnato, oh, ed ha messo rigore, ed ha messo rigore, ed ha messo rigore, sì, 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 Mario, Il tiro di Mario Rete, che cosa hai pareggiato? Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, cazzo, vabbè, ma non sei già segnalo back, no, che cazzo, perché l'ha ripassata? Oh, dai, ti giuro, l'ho spinto, ho sentito, cioè, non è che modo di giurà, manda, bella, tio, hamsic, il, beh, vaffa, piazzala, 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 Ma che darri, il piazzala, aspetta, ma che aspetta, ma non doveva proprio dire così, dai, ma è inguardabile, intendo, ma devo ti portare avanti, ma ho capito, ma c'è, io voglio, 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 l'occasione a volo, magari, cazzo, non so, dopo, sarà lunga, eh, rotto, non è fallo, non è fallo, palla piena, non è fallo, ha presevaristo, il cojone sinistro, Eh, vuoi capire, non segna, tutto bene, è alla fine, che ti posso fare, non segna, no, devi far prima, però, come cazzo fa, non ero, piazzala, ti ricordi che ho di Maria? Eh, di Maria, eh, hamsic, cazzo, la piazzala, mi spieghi perché se l'hai spostata sul destro? Sennic, piazzala, piazzala, oh, hai visto, hai visto, ho segnato Chisna, così, ma troppo fa un palo laterale, vabbè, Romolo fa tutto lui, perché ho capito, però, dai, cioè, non mi dica, non la piazza, l'ho piazzata, comunque, anche questa partita, si avvia, va a essere vinta, quindi, la prossima, ci giochiamo il titolo, bello, no? Porco, non può dirà così, sai, Balotelli, non può dirà così, non esiste, non è più, non è FIFA 15, Abbiamo capito che non è FIFA, quindi No, proprio no, cioè, nel senso, tu carichi tre stacche, tre stacche, no? Tre stacche, sì Mazza, ma ha chiamato un tifoso? Mazza, diavolo, dao Lo vedi, cazzo, cazzo Ecco, magari quello proprio ha munito, eh Sì Così, so come cacciabia, va a prossima partita, perché tanto non c'è, perché tanto Romolo c'è sempre Tanto un demo vince il titolo, bello, tanto Romolo è proprio una pietra Comunque, dai, questa è finita subito, velocemente, andiamoci a giocare questo cazzo di titolo Vaffanculo Allora, siamo qui per giocarci il titolo adesso, e lui c'ha una squadra che, ovviamente, c'ha una squadra che, sì, non è AC2, con il grande stemma del Kalash Ci dobbiamo vedere tutta la presentazione, perché ovviamente ogni volta è diversa Non la vinceremo, però vinciamo proprio la cosa La formazione, vogliamo schierarla con una grafica sempre nuova in ogni partita Tutti quanti, anche AC Milan, giustamente Eh, che sta, Morgan De Santis Diversa anche questa da quella prima, soprattutto E poi, vedi, sì, c'è Zaza, non l'avevamo visto nella schermata principale Ok, debutto giocatore di Maicon La recupera, Gervi, Gervi, Gervi entra in aria Si ferma, nessuno ferma Gervinio Ah, The Goodman Mannaggia, mannaggia Rudiger non la passa, sto stronzo infame Ah, è il tiro, Marchetti L'ha scarenato Che credo, non la prende nessuno La palla avvelenata Ah, andiamo da Paolo Bertano Per vedere cosa è successo Paolo Ok, Gervinio Si va ad infilare Questo qua mi prodizza Vai, vai Pjanic Guardate Tira Ho capito, Cristo Dio Cioè, non riesce a Controllare Trontrellando Oh, porco, tu Controllare un pallone Oddio, bella Però, ovviamente Non ci arriva Gervinio Era fuori gioco, era fuori gioco Dai Dai, dai Tutti in piedi Tira subito come viene Come viene, mi hai detto Cioè, là non posso tirare Come viene non vuol dire pallonetto Eh, ma là non posso tirare normale comunque Perché la mandavo fuori Direttamente Per controllare la fisica Se andrà da là Gervinio Dio, Gervinio Porco cane Questo mi prodizza Non so mai cosa fa C'è un problema esistenziale Con Gervinio Cioè, di solito So sempre cosa fa Passala No Passavi Filtrante dei card E la colla Però Ah, mannaggia, mannaggia Non ce la puoi fare secondo me Non hai guardi che c'ha poco dribbling Falche Falche Come un falco Falche Falche Oddio Perché ha tirato Ho sbagliato Ho misclicato Come fammi sclicca qua Cioè, dai Ho sbagliato Mannaggia, la miseria Perché sta cosa Inutile proprio Oh, vedi che non è inutile Lo vedi che non è inutile Dai Non ci posso credere Era rigore però Scusa Cioè, secondo la logica Rigore perché Mi ha stoppato Giusto Giusto così Che consiglia Giusto così Giusto così Ok, ok, ok Il gol fuori L'ha fatto lui Guarda, guarda Guarda A meno di cosa Non c'è la fisica Ok Che vuol dire Ok Cioè, tira con il cerchio Perché non è possibile Che ha fatto sta cosa Finita Sì No, regà, dai Non è possibile Che ha fatto È in cross Non è in tiro Vabbè, è una partita bruttissima Questa È stata una partita più brutta Del road Che voi vedessi Cioè, probabilmente Avete visto due tagli Di questa partita Comunque, niente Anche questo episodio È finito Comunque vada Nel prossimo episodio La seconda partita Sarà Divisione 6 Sia se vinciamo la prima Sia se perdiamo la seconda La prima Sempre La seconda Sarà sempre Divisione 6 E sta andando bene Perché ogni due Tre episodi Comunque cambiamo divisione Perciò Dai Grananas è tutto Lui ride Non ce ne so perché E bella Vecchi tra La parita di Grananas Forza Cidua Sempre Bella La parita di Grananas Grazie a tutti Grazie per la visione!